e ben a tutti ragazzi e bentornati con questo nuovo video con mi cambri signori bella raga bella raga oggi ragazzi siamo su fortnite coppie cercando di fare una bella partita e trovare la vittoria che ci manca durante quanto tempo l'ultima volta che ho fatto una che non voglio fare per appena nato anzi appena nato il gioco e vabbè per queste coppie ignoranti vi chiediamo almeno 50 migliori e vi portiamo alla delta brano challenge che una faccia da un botto e poi a 30 anni sai cosa facciamo? e ritorno del 1 di 1 quando era crashato non c'è nessuno? non c'è nessuno? no 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 ecco non c'è nessuno ma questo se ne è andato da parco è venuto qua stava troppa gel ma ci stava che stava troppo facile era in giocabile dove a parco rimane a parco e muore da parco nasce a parco mori come un muore muori come un guerrogo c'è gente da me c'è andré andrea non mi aiutato non so perché Sì, vieni qua, vieni nel box, vieni nel box, vieni nel box Sento, sento Sento un pochino a scappo Erabbè, raga, ma cos'è sto il gioco? Cos'è? Andre Guzumod, signori, grande Andre Grande Andre, Andre, si pensa a lui a crappare la sita Andre, sei remutato, sto facendo una cosa Vabbè, stai vedendo il danno, si sa, dai Andre, grande Non c'è quel che è stato, ce n'è qualcuno? No Vedi qui Vabbè, ci abbiamo tutta la città La città è un colpo, io ero sotto palazzo Non so se è stato salutato, però per sicurezza le vacce Sì, inserazionato Che droghe, da quando non è Quando dici si inizia a ragionare sto è sempre da qui se il tacco viola uno sclero il tacco vero attenzione non c'è nemmeno più cosa non si trova mai stai quando fai uno gioco gli altri su colpo un po abbiamo così tacco viola p 90 aug la madonna in croce mi dissocio vabbè chi più ne abbia più ne metto magari il peperoncino così si bruciano per cura spera con me possiamo fare sulle video ignoranti ma spero raga contro questi 3 ardoni sono messo dentro di veramente 3 ardoni domani è calcolato questa è la prima kill che ho fatto oggi domani si agerano i punti e vanno a forrare che bello che bello che bello andrea non so se domani oggi era il 21 21 no io mi ricordo il 21 non so se non vendito 22 vabbè si basso oggi rimane sembra mezzo così vanno domani iniziano potrei andare c'era dopo 10 mila veramente non si scherziano che ora però non si è giocato a diventata un po ingiocabile questo bisogna dirlo adesso ciò che mi dà già vuoi dei bulloni ho capito questa che mi ha dato che l'ora fino a vantare in generale vuoi dei bulloni andrà però mi sa che tu vorresti questo vabbè si lascia i mesi e chi non è ottimo perché sta nella ricerca delle vacca vero come ho parlato a vissare in generale è bella per una volta questo dire che aveva fatto una partita decente e per dire che questo è una partita recente immaginate che cazzo che abbiamo porti non so quanto equiparato non ho fatto vero il giuro che bulloni che nasce e lo vuoi cosa cosa io non lo posso portare che quello che vanno è soltanto a cittadini a bambini portando città cittadini o meriti da un cd a me è pieno qualcosa a bè cittadini da spu scelere molto e and e e e the andrea la casa si muda la roba la parte di modi per sbagliare la resta non ha fatto pesante ma fa peggio sto sparando io bello un po' blu del mondo con i bologni che io ti potessi proprio il level non so che cosa per te però vabbè no no voi sai che ti dico oh frana si dove sta agendo davanti a noi secondo sto però stanno una dalle 23 marona che mira di merda da nello troppo quindi la distrutta senta 30 bianco una una bianco la 22 oh è porco questa rotta c'ha una mire è incredibile però dobbiamo andarcene stanno dei tryhardone arrivando da sinistro 3 manco gente ragazzi 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 6 6 8 6 9 9 10 9 10 10 11 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 spero qui ci sono cosa che è possibile che non escono panocchia ecco anche se sinceramente non riesco il cerchino normale sto cosa ma io c'ero abito perché non me la sta fan ma c'è gente a sinistra non ce ne siamo accorti sta come una dana che cazzo e bolle bregley ma c'era questa legenda, me la so vengono ma dove stanno dicendo a voi vina dai vina vina dove sta questo vizio solo visto che cammino spara nel grano spara nel grano c'è sinistra di riparo lo so ah ecco marone mio perchè a me viano sempre io non vio niente strano, non bussare se lo stai cacca guarda qua hanno perduto le cure va andiamo c'è una jump no non stava andiamo scherzo mi sento il labo non ce lo scanno sto andando a dove sto andando a dove sto andando a dove vieni vieni andai andai stai andando a qua andai no no perché ci andai 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 butta butta mi ha distrutto no no quanto 3 yard alla gente scuota che non scappero che non scappero che non scappero che non scappero ma come faccio che non scapparmi ma come faccio che non scapparmi e me lo spazzo leggendario c'è questo raga ormai è letteralmente impossibile vincere su questo gioco mi dà che così chiamerò il video vabbè detto questo da me andrà tutto bella raga bella